Ciao dalla Tattoo Convention di Torino! Buon pomeriggio amici di News Eventurine, siamo qui alla Tattoo Convention 2017, Torino-Palavela. Veramente un ambiente meraviglioso, 350 tatuatori oggi sono qui che stanno tatuando da questa mattina, non si sono mai fermati. Un sacco di eventi nel palco principale, nella main stage, abbiamo potuto vedere pole dance, abbiamo potuto vedere maghi, ci sono veramente concerti e cose meravigliose da guardare. E poi c'è stata la DC Arena fuori, cose bellissime, concerti anche lì e tantissimi DJ set. Mi raccomando, state connessi con noi perché ci sono tante cose da vedere. Un saluto grandissimo a tutti gli amici di News Eventurine da Barbara Morris, seguitici e mi raccomando, state con noi! Ciao della Tattoo Convention! Buon pomeriggio amici! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti